La vostra opera deve essere guidata dalla certezza che sotto le lacrime e il sangue della guerra c'è il volto luminoso della luce di Cristo, verbo incarnato. Si è rivolto con queste parole Papa Francesco all'Assemblea Plenaria della Roaco, il comitato pontificio che riunisce le opere di aiuto alle chiese orientali. Prendendo spunto dal restauro di un mosaico nella Basilica della Natività a Betlemme, che ha rivelato un settimo angelo coperto dalle incrostazioni del tempo, il pontificio ha allodato l'opera delle chiese di Medio Oriente ed Ucraina per rimuovere le incrostazioni materiali e morali della violenza e della persecuzione. Cristo è la nostra pace, ha proseguito Papa Francesco, e bussa alla porta del nostro cuore in Medio Oriente così come in India e in Ucraina. Serve una comunione di opere e di spirito, ha concluso il pontificio, in ogni parte del mondo dove cattolici latini e orientali vivono fianco a fianco, una comunione che ha bisogno delle ricchezze spirituali dell'Occidente e dell'Oriente. Grazie a tutti.